ma io posso partire mettermi qua ciao a tutti allora finamber finamber grazie per la domanda intanto così faccio un po di pubblicità finamber è un'idea nata io prima facevo sempre fatto vela però contemporaneamente da piccolo fatto tantissime arti marziali nelle arti marziali c'è meno chiacchiericcio che nella vela quindi mi sono reso conto insieme ad amici che in realtà è un ambiente dove non c'è una scala di valori perché fondamentalmente gli armatori diciamo nel mondo diciamo della vela post olimpica non dei ragazzini che vanno in barca ma quelli diciamo dove c'è un armatore che paga dei professionisti sono i primi a non capire sono quelli che ne capiscono di meno fondamentalmente quindi vengono un po un po presi per i fondelli molto spesso non c'è un senso non ci sono i prezzi non esiste un valore di mercato e in più molto spesso gli equipaggi sono allenati male io ero particolarmente regolarmente ad allenare gli equipaggi da allenare anche nel mondo del karate e quindi ho provato a trasferire un po quelle che sono le caratteristiche del mondo del delle arti marziali nella vela e ma perché io stesso avevo un po imparato da solo guardando gli altri cercando di rubacchiare e mi sono detto cavolo secondo me con un metodo diverso meno parole cercando di fare le scelte giuste si può crescere moltissimo quindi con un metodo senza fidarmi sempre soltanto a quelli che vincono nella mia classe e quindi wow sono super rispetto perché sicuramente ne sanno più di me però comunque ci sarà una scala di valori dove qualcuno mi saprà insegnare qualcosa secondo un metodo preciso poi una volta che hai il metodo come nelle arti di ogni tipo una volta che hai la tecnica poi devi tirare fuori la tua capacità però prima devi avere la tecnica prima di portare a casa tutta quella parte lì e quindi seguiamo gli armatori da 0 a 100 sullo sviluppo delle vele le scelte relative alle modifiche della barca le modifiche della vele relative alla scelta dell'equipaggio poi seguiamo anche gli servizi e così da ottimizzare il progetto e farli vincere spendendo meno soldi e soprattutto fargli fargli raggiungere gli obiettivi prima possibile e ci riusciamo perché alla fine invece di fare tutto noi ci affidiamo al migliore in ogni settore e con una sorta di consulenza di occhio dall'alto che dice sì capito questo secondo noi è una strada buona e questa invece no quindi consigliando e nello stesso tempo insegnando anche all'armatore quindi non solo si sente dire queste sono le vele migliori questa è la pinna migliore questo il prodiero migliore non si sente semplicemente dire così vengono presentati cinque prodieri con caratteristiche diverse ben profilati e sarà lui a scegliere quindi impara nel suo sport non so se sono stato chiaro chiarissimo mi sembra una cosa molto molto interessante l'approccio più utile non solo nella vela ma in generale nelle attività nello sviluppo delle persone e mi ha colpito la vostra osservazione iniziale cioè che effettivamente è un mondo soprattutto quello nelle barche grandi dove probabilmente sono molte persone che hanno grande disponibilità ma poi non hanno grandi conoscenze e quindi mi sembra che abbiate individuato un target una nicchia di mercato molto 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 valida naturalmente lo potete fare perché se ho capito bene tu insomma prima ancora hai vinto parecchio insomma hai sperimentato il metodo per per approcciare la legata quindi non semplicemente l'istinto e il fattore c esattamente cioè allora innanzitutto c'è gente che vinto molto più di me però quello che mi piace vendere di me stesso è che ho vinto in tante classi diverse cioè non ho mai vinto un'olimpiade non ho mai vinto una medaglia anche perché vabbè quando ero pischello purtroppo le classi olimpiche io non ci potevo partecipare per vari motivi però ecco applicando l'approccio ad ogni classe alla fine abbiamo portato a casa i risultati quella cosa che a me è sempre piaciuta no e visto che stasera parleremo di strategie tattica quello che è avvenuto fondamentalmente è che quando ero piccolo io facevo le regate ero un appassionato di skiff di derive eccetera 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 c'era la giornata dove facevo due primi e un secondo e dicevo cavolo sono tornato a casa sono contento poi il giorno dopo buttavo via il campionato perché magari pestavo due due pessime risultati in classifica e allora mi sono detto cavolo perché succede questo perché sono completamente affidato a che cosa sono completamente affidato all'osservazione alla mia esperienza e alla mia credenza cioè quello che io credo che serva che può servire quel giorno in cui ci sono quelle condizioni in cui tutto funziona ma il giorno dopo dove io devo cambiare devo uniformarmi perché il vento non è più lo stesso perché le regolazioni non sono più le stesse non le ho azzeccate e allora c'è butto via il campionato qui torna di nuovo è un po quello che vorrei fare stasera farvi capire stasera torna di nuovo un po il metodo cioè tornare dei concetti fondamentali i concetti fondamentali sono quelli se noi li applichiamo abbiamo fatto il 70 per cento il 70 per cento è forte in più facendo il 70 per cento e cominciandoti a tornare il 70 per cento c'è tutta quella parte che non è a penso che secondo me bisogna virare ma un ragionamento preciso che ti fa dire viro non viro ok già portiamo a casa una serie di certezze e soprattutto evitiamo tutta un'area di errore un po il modo di regattare che hanno gli anglosassoni rispetto a noi noi siamo molto più abituati a fare un tipo di tattica basata sull'osservazione no perché viviamo in un posto bello è bello guardarci in giro è bello guardare l'acqua perché abbiamo viviamo in una piscina che il mediterraneo dove le raffiche si vedono perfettamente infatti abbiamo quell'istinto in più siamo pure siamo pure diversi da loro proprio dal punto di vista del carattere siamo latini quindi siamo più portati ad approcciare le cose con l'istinto con il savoir faire piuttosto che con la regola e quindi c'è la giornata dove facciamo la differenza vinciamo con un lato d'anticipo loro vincevano storicamente anche alle olimpiadi campionati perché perché avevano un approccio che era un approccio molto meno basato sull'osservazione perché vivono su un mare marrone dove non si vedono le raffiche è molto più geometrico e vi assicuro che la parte geometrica si può insegnare anche un bambino ok la parte geometrica che è quella del fare meno strada di approcciare un campo di regata considerando di fare meno strada degli altri ti permette anche poi di sapere di essere sul bordo che ti avvicina alla boa e quindi poter pensare all'opzione se noi stiamo lì a pensare ci allontaniamo dalla boa siamo in qualche modo rischiando il doppio questo è un piccolo esempio io comincerei proprio con una specie di con la serata vera e propria se siete d'accordo allora vi dico innanzitutto una cosa se avete domande non abbiate paura perché già questa cosa di stare davanti un video con delle faccine e così senza neanche tanto conoscervi una roba che questo questo covit ci ha tolto la bellezza del poter fare le cose in presenza quindi siate interattivi non abbiate non abbiate paura ok so che avete già parlato di tattica di regata e strategia quindi cercherò stasera di dare un approccio che è leggermente diverso no a che è quello del posizionamento rispetto agli avversari e rispetto sempre a questa parte diciamo geometrica del campo allora secondo me la scusa ducio puoi mettere il foglio più a sinistra perché sulla destra compaiono perfetto grazie ok allora considerate questa cosa se avete già partecipato ad altre serate dove vi è stato di di tecnici che vi hanno raccontato la tattica oppure avete aperto dei libri ok vi hanno spiegato che esiste la tattica ed esiste la strategia no ormai questo è un dato di fatto la strategia è quella appunto geometrica che si fa sul vento senza le altre barche in quella che noi invece chiamiamo tattica in realtà è un po di più il posizionamento rispetto all'avversario e alla flotta quindi la strategia è quella che faremo da soli quella che potrebbe per esempio in una regata orc dove paga di più il tempo rispetto all'avversario ok perché in una regata orc vince si fai il tuo percorso con il minor tempo possibile e mentre nelle regate di flotta basta arrivare davanti all'avversario anche se sei andato dalla parte sbagliata hai fatto molto più strada no e quindi è divisa tra tattica e strategia in realtà io sono presuntuoso ragazzi vi dico che secondo me la tattica è molto di più secondo me la tattica sono fondamentalmente queste cose sono cinque cose la prima è il regolamento ok le regole del gioco lo vedete scritto giusto sì la parte da sinistra sì 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 la seconda ne avevo parlato un po prima ed è la parte di osservazione nella parte di osservazione capiamo dove c'è più pressione se la raffica in scarso in buono come navigano le altre barche da dove vengono le raffiche se la meteorologia che abbiamo guardato il giorno prima su internet si sta avverando se ci sono le nuvole che ci indicano che sta entrando la termica se sotto costa ci sono i buchi di vento oppure c'è lo scarso il buono ok attenzione perché l'osservazione che è quello che rende fico il tattico ok è anche la parte più difficile di tutte ed è quella dove ci vogliono tanti tanti anni e bisogna pure essere portati quindi ci vuole tanta esperienza e poi c'è la strategia geometrica che è quella che in realtà all'inizio può sembrare un po più difficile c'è un po difficile perché è tecnica però è quella che si può imparare ed è quella che ci salva sempre la vita ok poi c'è la strategia consapevole e qui purtroppo io essendo uno che viene da arti marziali tendo sempre a pensare alla parte interna del regatante dell'atleta e quindi è la con la strategia consapevole quella che determina la tipologia di scelte che tu fai ok sei ultimo in classifica devi rischiare se il primo in classifica e non devi rischiare oppure hai una barca veloce di bolina e quindi devi assolutamente girare bene di bolina perché poi di popa sei lento ok c'è la strategia consapevole rispetto alla forza che tu hai rispetto alla classifica in cui sei c'è una bozzettina e il quinto punto soltanto il quinto punto è il posizionamento anche questo è facilmente spiegabile ok quindi la tattica è la tutta la serie di queste cose quello che però noi erroneamente o diciamo non erroneamente però diciamo dal punto di vista didattico sbagliamo è pensare che la tattica sia questa ok che invece vi assicuro che ci vuole questa la fanno tanto bene i bravi coach che insegnano ai ragazzini andare in barca che stanno tante ore sul mare ok tante ore sopra le onde e gli insegnano a osservare il mare osservare gli avversari gli angoli degli avversari la velocità degli avversari ok osservare il meteo però considerando diciamo dalle foto e dalle immagini che ho visto di voi non siete più proprio giovanissimi mi sa che le olimpiadi e le giornate in mare tutta la settimana non ve le fate più ok però vi assicuro che soltanto con queste non si vincono i campionati si vincono le regate ok va bene adesso allora considereremo una serie di siccome la serata sul posizionamento considereremo una serie di casi generali in partenza di bolina nelle boe di poppa in cui si devono tenere conto diciamo di queste di questi punti ok partiamo con la partenza so che voi avete già fatto una serata sulla partenza questa è una linea di partenza questo è il pin questo è il comitato ok voi sapete benissimo che il campo di legata è delineato da delle linee esattamente come tutti i campi di gioco in tutti gli sport la cosa bella del mondo della vela che queste linee si muovono ok nel tennis tu sai che se sbagli il colpo o il servizio esci di due centimetri perso qui molto spesso sei fuori i due centimetri poi rientri oppure ti avvicini alla linea o ti allontani e non lo fai semplicemente tu lo fa il vento ok quindi ditemi se dico delle cose di cui voi non avete consapevolezza che ve le spiego in un secondo abbiamo sempre due ley line che sono quelle che ci delimitano il teatro di partenza il teatro di partenza è questo tutto ciò che fuori dal teatro di partenza è molto pericoloso ok è molto pericoloso perché cosa per le regole del gioco la regola 10 mura dritta mura sinistra ci dice che se noi viriamo in questa posizione perché ci siamo trovati nelle fasi di partenza quindi di accelerazione gli ultimi 20 secondi dello start fuori alla ley line del pin dovremmo entrare mura sinistra non è quasi mai una bella cosa da fare a meno che non ci sia un super sinistro e uno non abbia una grandissimo time on time on distance su un sinistro e gli altri siano lontani sulla parte destra quindi riesce a fare una partenza mura sinistra però diciamo è un caso ok si vince la regata non si vince il campionato non è che partendo 10 volte mura sinistra col sinistro vinci il campionato vinci la regata in quella volta lì in cui si è stato un figo ok sulla parte destra rispetto alla ley line del comitato di regata invece non si è protetti dalla regola 11 la regola 11 dice che la barca sopravento a un'altra barca sulle stesse mure deve stare discoste ve la disegno una barca che sta navigando mura dritta deve stare discosta da una barca che sta navigando sulle stesse mure quindi anch'essa mura dritta perché se queste due si toccano perché quella sottovento orza lentamente questa qui è squalificata ok vi aggiungo un'altra regola fondamentale che è la 17.1 la 17.1 che cosa dice dice che è la famosa giusta rotta quelle che fondamentalmente viene chiamata da tutti quelli che non sanno bene che cosa dire urglano giusta rotta ok la giusta rotta è anche giusto che venga in qualche modo interpretata che venga usata in questo modo da quelli che vi sottomettono psicologicamente o che cercano di sottomettere qualcun altro psicologicamente perché la stessa descrizione definizione della 17.1 è piuttosto così interpretabile è la rotta più veloce guardi io neanche la so bene per dire è la rotta più veloce per ogni barca per raggiungere secondo lei la bocca ok fate attenzione la 17.1 non c'è prima della partenza perché durante la regata la 17.1 ti dice non ti può dire qual è la tua giusta rotta nel senso più orzato meno orzato più veloce o più lento e alto eccetera però ti può dire che tu devi essere almeno di bolina perché se tu sei fermo contro vento non stai facendo la tua giusta rotta quindi durante la regata esiste la 17.1 quindi tutte le barche si devono mettere su una rotta di bolina ecco perché entra in vigore lo zero e tutte le barche si devono mettere di bolina e partire ok ma prima dello zero non essendosi questa regola vale ancora di più si rafforza ancora di più la regola 11 quella della barca sotto vento che quindi può orzare portando la barca sopra vento fino più al vento e parcheggiandola lì ok quindi allo zero chi è sulla rotta esatta per il pin quindi sulla ley line scusate non per il pin per il comitato ok deve stare attento alle barche sotto vento sulle stesse mure perché potrebbero orzare e portarti in alto fino allo zero e quindi poi partire e chiuderti fuori ok quindi attenzione alla regola 10 se siete fuori da questa parte del pin e alla regola 11 per le sotto vento se siete sulla lei di destra sulla lei di destra precisi ci potete stare se avete le barche sotto vento non troppo attaccate ok se no buttate via la regata ecco per vincere i campionati e non per vincere per diventare solidi fondamentalmente non per vincere di due di due lati sugli altri per essere solidi a livello tattico a livello strategico ok è fondamentale non concludere il campionato con delle lettere nella classifica ocs dn dsq ok quindi queste qui sono delle regole di posizionamento che sono fondamentali e che vi già vi dicono voi vi portate a casa la partenza poi sbaglierete il time on distance quella è una questione di tecnica sbaglierete che partite in secondo in seconda fila ma tagliate fuori dalla flotta secondo si di rispetto al posizionamento questa è una cosa che non vi può succedere ok adesso vi disegno lo stesso teatro di partenza con un sinistro se una rotta con un vento perpendicolare alla linea di una barca mura dritta è questa e quindi sarebbe perfettamente in linea perfettamente sulla lei per il pin giusto se ci fosse un sinistro se ci fosse un sinistro ecco che la rotta non è più quella ma diventa questa non se siete d'accordo e quindi ecco che la nuova lei line è questa sia per il pin sia per il comitato questo che cosa significa significa che il teatro di partenza si è rimpicciolito le barche si disporranno sulla linea molto più piatte per partire ok perché sennò di bolina non partono sarebbero subito controvento quindi devono stare molto più vicino alla linea e sono molto più sdraiate sulla linea quindi navigano in modo più parallelo alla linea questo che cosa vi fa pensare mi fa pensare che di colpo il comitato ha sbagliato la linea corta ok in realtà la linea è la stessa ma c'è stato un sinistro ma la linea diventa corto quindi campi a completamente diventa corta perché le barche stendendosi occupano più spazio questo che cosa che cosa che cosa porta dal punto di vista del posizionamento porterà a una partenza così con delle barche in seconda fila sotto che non ci stanno attenzione perché queste barche sono pericolosissime perché una delle regole fondamentali per partire con un grosso sinistro sulla linea è quello di partire piuttosto vicini alla linea perché il problema è che potremmo non prenderla la linea ci sono delle situazioni addirittura sto estremizzando con un sinistro esagerato è delle situazioni addirittura dove per partire devo quasi essere attaccato alla linea ebbene le barche sotto vento quelle che non ci staranno e questa è un'immagine tipica di una partenza con sinistro con barche sotto vento è che le barche sotto vento sdraiate per la regola 11 di nuovo la regola 11 che abbiamo visto qui ti possono fare fare ocs molto 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 facilmente quindi attenzione ok quindi il vostro posizionamento sarà quello di cercare di non avere barche sotto vento a voi ok attenzione alle barche troppo sotto vento che vi spingono vi fanno orzare vi possono far orzare fino al vento ok perché non c'era 17.1 prima della partenza ok poi cosa succede che quel giorno è un giorno strano e quindi di colpo c'è un destro della madonna nella partenza successiva ecco che queste diventano le due lei line per la partenza mura dritta sempre ok cavolo quante barche che ci stanno ci stanno tantissime barche e allora questa è l'immagine tipica di una partenza con destra con un destro ci saranno gruppi di barche e buchi ok questi buchi sono molto importanti quando c'è un destro per posizionarsi ok altre caratteristiche di quando c'è un grosso destro che la barca che spinge da sotto per la regola 11 vi può portare più al vento ma fondamentalmente non vi fa uscire è più difficile che vi faccia fare o cs se c'è un grosso destro ok altra cosa che questi buchi quindi la linea di colpo diventa più larga c'è più spazio è più facile poggiare e avvicinarsi a quello sotto se abbiamo uno che ci punta che ci viene a trovare eccetera eccetera ci permette di fare una tecnica di approccio alla linea che con il destro io uso moltissimo ok in realtà lo uso anche col sinistro però con il destro viene molto bene che è il port approccio che è un approccio mure a sinistra al minuto minuto e mezzo scorro la linea mentre tutti sono già qui che si fanno barging da sotto si spingono si tengono alti fermi io scorro la linea bello al traverso anzi di bolina ok e decido tac viro e mi metto in posizione di forza sotto vento un gruppetto e per la regola 11 divento forte vinco la mia piccola regata che è quella tra il mio gruppetto di barche ok quando voi disegnate una linea di questo tipo barca comitato vedrete sempre una serie di barche buco serie di barche buco serie di barche buco ok se io penso che ci sarà un destro quindi voglio partire poi dirigermi sulla parte destra del percorso o faccio la figata della vita e parto primo in comitato e poi viro ok e vado a prendermi più pressione a destra o un futuro salto a destra ma li stiamo già prevedendo il futuro siamo già dei tattici della madonna ok se già con il qui e ora con il destro di quel momento voglio stare più a destra di tutti perché abbiamo capito almeno questo credo che sia deve essere chiaro che su un destro voglio stare a destra della flotta su un sinistro voglio stare a sinistra della flotta ok o faccio la partenza primo qui perché tanto sono ultimo devo rischiare la vita devo fare un primo per forza devo vincere un campionato sono secondo terzo e se faccio un primo un quarto sono fuori dal più podio quindi devo vincere per forza allora magari tenderò questo tipo di partenza ma attenzione alla regola 11 e attenzione alla lei non dovrò avere altri ok posso decidere di partire anche attaccato al mio compagno sottovento ma poi viro subito per esempio se no in un campionato normale voglio stare a destra bene allora mi posizionerò qui il primo del gruppetto di destra per esempio ok vincerò il mio piccolo gol non sono il primissimo ma sto ho un buon trade off tra il rischio ok e la parte giusta ok molti per esempio nel mondo della vela blastano cioè parlano male del mondo dell'orca il mondo dell'orca per me invece è stato fondamentale per imparare tantissime cose la prima è far andare bene la tua barca a sviluppare la tua barca quindi imparare in ogni ambito della barca come poterla fare correre di più ok il secondo è che tu devi un po come quando facevo karate io sono piccolino e leggero ok dovevo combattere lì non ci sono i pesi dovevo combattere con quelli più grossi di me non potevo usare la stessa strategia perché me le davano dovevo inventarmi qualcosa ok quindi se sei il più piccolino di una flotta orc ok non parti dalla parte giusta per forza dove partono i tipi 52 ti asfaltano in due secondi farai sempre una media tra il vento libero e la parte buona vi assicuro che anche nel mondo delle derive questa cosa paga ducio ducio si sono giusto velocissima introduzione che cos'è l'orca perché non so se tutti tutti lo sanno qua dentro l'orca è guardalo qua dietro ducio come scusa questo è un esempio di orca vincente l'orca sono le regate a compenso sono le regate fatte da tutte barche completamente diverse con i certificati quindi dove è più importante non è importante arrivare davanti fisicamente all'avversario ma si può arrivare anche dietro se tu hai una barca più lenta ma se hai fatto il tuo percorso meglio della barca più veloce che ti è arrivata davanti magari di poco vinci lo stesso perché è una corsa a tempo ok quindi hai la problematica fondamentale dell'orca dal punto di vista tattico e strategico del posizionamento è che hai barche con velocità molto diverse che non è molto diverso tra l'altro a flotte di derive come la vostra io continuo ad amare le derive e continuo a navigare sulle derive però se non navichi col 470 alle olimpiadi in 49er dove i primi due magari hanno completamente un passo migliore ma gli altri sono molto molto simili ok nelle flotte come il fireball il 4000 eccetera è sempre una flotta davanti che fa mezzo nodo di più una flotta media in mezzo e poi ci sono gli ultimi che stanno imparando è un po' come l'orca non puoi partire sottovento o attaccato sopravento a un avversario forte perché ti asfalterà ok quindi l'orca ti insegna tantissimo perché esaspera questo tipo di problematiche ok passiamo adesso un attimo alla bolina allora per imparare a posizionarci partiamo proprio dalle basi fondamentali però poi dobbiamo anche capire che la scelta sul posizionarci rispetto alla flotta è anche determinata dalla tipologia di evento che abbiamo cominciamo dalla base il posizionamento rispetto alla flotta è determinato dalla separazione ok ogni volta che uno ha separazione c'è la quantità di questa separazione ok determina un grosso vantaggio o svantaggio rispetto a una rotazione di vento di una barca all'altra adesso era stato anche era stato anche teorizzato questo vantaggio svantaggio che mi sembra fosse quattro volte il saldicini ogni cinque gradi di vento cioè la distanza di separazione quattro volte ogni cinque gradi di vento ma sinceramente non è importante sappiate che è molto importante un po' un po' come come partire dalla parte giusta su una linea storta ok facciamo finta che queste due barche abbiano questa separazione abbiano un vento perpendicolare a loro perfetto così queste barche ok dopo un minuto se questa barca fa questa barca fa questa strada ho preso queste due lunghezze una due ok se questa barca da questa posizione ha messo che viri senza perdere ma facciamo finta proprio parliamo geometricamente facciamo finta che viri senza perdere come un gioco elettronico in un minuto fa anche lui due perché è veloce uguale ok quindi non c'è nessun vantaggio per nessuna delle due barche ok perché il vento è perpendicolare attenzione questa separazione invece la consideriamo con un salto di vento consideriamo un salto di vento nuovo un salto di vento a sinistra ok la bollina non è più questa di questa barca ma la bollina di questa barca in due minuti farà questa rotta ok se questo dovesse virare invece farebbe questa rotta le due rotte nuove ve le disegno in rosso perché c'è stato un salto di vento a sinistra un minuto e un minuto guardate quanto ha guadagnato questo perché era sulla sinistra separato dall'avversario ok quindi questo che cosa dobbiamo pensare che se c'è un salto a destra vogliamo stare una rotazione a destra vogliamo stare a destra che se c'è un salto a sinistra vogliamo stare a sinistra ok quindi questo comporta che noi ci dobbiamo fare una domanda mentre navighiamo e mentre per esempio stiamo per incrociare una flotta di barche noi siamo mura a sinistra immaginiamoci di navigare mura a sinistra di bolina ok abbiamo tre o quattro barche che stanno incrociando mura dritta abbiamo due possibilità o viragli davanti perché ci passiamo oppure crossare e andare sulla loro destra perché ci passiamo quindi flotta di barche che navigano mura dritta noi ci passiamo possiamo opzione due virare qui opzione tre crossare e metterci virare per esempio qui ok chiaramente quando saremo qui loro saranno qua ok quindi le nuove posizioni delle barche saranno queste nel caso due ok allora nell'opzione uno cioè virare davanti a loro quando la vogliamo quando dentro di noi pensiamo che sia meglio la sinistra quando pensiamo che è meglio la sinistra quando c'è più pressione sulla sinistra e l'abbiamo già capito prima lo dobbiamo aver capito prima uscendo un'oretta prima navigando capendo che hanno già guadagnato quelli sulla tua sinistra ok guardando la bussola che ci dice cavolo sono partito a 100 adesso sono a 90 adesso sono a 85 c'è una rotazione a sinistra ok tutte le volte che c'è un vantaggio a sinistra o una rotazione o un vantaggio di pressione magari addirittura rotazione e pressione allora lì c'è tutta la vita miragli davanti ok se pensiamo che invece la prossima rotazione sia a destra crossiamo quando pensiamo che la prossima rotazione sia a destra e quindi quando crossiamo in due casi quando sulla destra c'è pressione ancora una volta e l'abbiamo capito prima sono usciti da destra abbiamo perso andando a sinistra ok o quando siamo per esempio in uno scarto in uno scarso quindi c'è una rotazione di là ci posizioniamo di là o attenzione quando siamo in un vento oscillante e siamo sul massimo sinistro questo è l'unico caso in cui bisogna essere dei bravissimi tattici fare conoscenza con il vento ogni volta che usciamo e siamo sull'acqua dobbiamo stringere la mano al vento che è una cosa che io in realtà si dice in inglese questa cosa si stringe la mano al vento nel senso che si fa conoscenza col vento nel senso che tu devi presentarti e lui ti deve dire chi è poi dopo vediamo anche questa cosa quando sai che esci e tu dici ok sto stringendo la mano a un vento oscillante tu sai che avrai un vento che uscirà a sinistra e poi ritorna a destra poi va a sinistra e poi ritorna a destra quando sei sul massimo sinistro molto probabilmente ritornerà a destra quindi uno ti conviene rimanere nel lift sul sinistro navigare il più possibile sul sul massimo sinistro perché fai meno strada ok due tornerà probabilmente un destro e a quel punto sarai dalla parte giusta rispetto agli avversari ok facciamo un esempio per esempio in partenza facciamo un esempio per esempio in partenza partenza è un po' come disegnare questa separazione ok c'è un sinistro voi dovete partire sul sinistro quindi volete partire in pin è chiaro? perché è a sinistra il pin e quindi volete partire a sinistra ok quindi partite le barche sono molto sdraiate sull'acqua posizione difficile per le barche dietro partiti avete vinto il primo gol siete partiti a sinistra degli avversari gli avversari molto probabilmente in questa posizione che cosa faranno? finché resistono vengono a sinistra con te ma il prima possibile a volte anche immediatamente perché qui ho disegnato un sinistro esagerato per farvi capire cosa faranno? vireranno perché? perché sul bordo opposto hanno che cosa? il lift hanno questo lift ok sono sul massimo sinistro virano e quindi si avvicinano di più alla boa di voi perché la boa fondamentalmente ci immaginiamo che sia sopra di voi ok quindi voi state andando dalla parte giusta ok state andando dalla parte giusta ma attenzione strategia consapevole cioè tu devi andare dalla parte giusta ma non devi essere presuntuoso giusto? perché con un sinistro così grande ti stai allontanando in realtà geometricamente dalla boa ti sei preso il primo gol ma poi loro virano e se ne vanno subito ad avvicinarsi sulla boa ok quindi la cosa che fa migliore da fare è mantenere meno separazione possibile meno separazione possibile soprattutto in un vento oscillante soprattutto se sapete che potrebbe tornare a destra quindi quando è che un vento può tornare a destra quando è oscillante quando fa il girasole quindi nella maggior parte dei nostri campi di regate con il vento termico ok quando è incasinato quelle giornate in cui c'è casino c'è cavolo c'è vento a destra poi salta a sinistra perché poi ci sono i nuvoloni raffredda quindi saltoni allora quando è incasinato non potete mai mollare troppo gli avversari mai ok se siete dietro potrebbe andarvi di culo e quindi forse spaiare avrebbe un senso se siete davanti questo personaggio qui forse deve virare prima degli altri e andare subito sulla geometria senza ingolosirsi troppo e andare a prendere troppo sinistro troppo la parte sinistra ok quindi non lasciare neanche un centimetro di avvicinamento all'avversario ok quando è che questa barca invece potrebbe mollare gli avversari nonostante loro si avvicinano di più per esempio in determinati tipi di venti ok che io chiamo di solito a zone sui laghi sui laghi molto spesso è obbligatorio andare a costa ok c'è più vento più pressione in costa vai là e poi ti dà dei tironi alti c'è una punta per la morfologia della costa allora a quel punto dici guarda conscio della sicurezza che ho vinto il gol ho vinto il gol non solo perché sono sul sinistro rispetto agli altri ho vinto il gol perché voglio andare qui perché qui poi vado su parallelo alla costa perché lo so ok quindi avrò ancora più destro questi qui piano piano più sinistro scusate e vado su dritto in boa molto più di loro ok senza farlo opposta vi presento i tre personaggi i quattro personaggi che è quelli che voi dovete prima di partire aver definito perché non potete andare a fare la tattica se non avete idea di cosa state facendo cioè non potete partire poi vediamo cosa succede dovete fare dovete fare delle scelte dovete dirvi dentro di voi o al vostro compagno o al vostro prodiero o timoniere siamo in un vento oscillante poi magari sbagliate perché è un vento che fa il girasole avete sbagliato in quel momento ha fatto un sinistro e voi l'avete chiamato oscillante però almeno avete fatto una scelta avete deciso che quella è la strategia per quella scelta avete cominciato a guardare la bussola o comunque cavolo quando siete su un forte sinistro molto probabilmente se è un oscillante ritornerà a destra ok oppure sapete di S che è un girasole girerà sempre sulla destra e quindi state quasi sempre sulla destra di tutti gli avversari è vincente ok queste sono le strategie fondamentali le riscriviamo si esce un'ora prima si arriva sul campo si fanno due recuperazioni si naviga un po' due manovre un po' di warm up per scaldarsi provare le manovre fondamentale guardare gli altri dove c'è più pressione fatevi delle domande e soprattutto con che vento abbiamo a che fare abbiamo a che fare con un vento a zone e allora siamo siamo su un lago e allora ripetetevi con il vostro prodiere con il vostro timoniere quali sono le buone zone quelle lì bisogna andare lì che c'è la punta io partirei a sinistra e andrei sotto costa oppure però in centro al lago quindi più sulla barca comitato ti tiene molto di più il destro quindi forse è meglio partire non troppo a sinistra perché poi col destro mi alzo molto i primi prendono tanto scaccia fate delle valutazioni ok capite dove volete andare cercate di andarci in aria pulita posizionandovi in aria pulita non è facile ok chi è abituato al mare fa una fatica della madonna perché non è abituato a pensare così poi c'è il vento oscillante che era quello che io odiavo di più da buon laghe cioè micchia il vento oscillante le prime volte andavo al mare impazzivo con sta bussola non era il mio modo cioè io dovevo vedere a terra il punto e dovevo dire punto là c'è uno scarso lo vedo perché muovo la prua e allora mi rendo conto che è uno scarso e ci viro perché so mi aspetto qualcosa ci arrivo oscillante è una roba più da ingegneri cioè devi stare più concentrato sull'oscillazione del vento adesso è quello che amo di più ok è fondamentale navigare tanto di bolina e capire quali sono le oscillazioni capire che dà un massimo di 110 di sinistro e un massimo destro di 120 quindi quando sono sul sinistro viro perché so che tornerà al destro ok poi c'è il persistente diciamo chiamatelo come volete gira sole il persistente che quasi sempre continua a girare a destra è la nostra termica quella che si alza di solito entra con un po' di sinistra strana poi si stabilizza quindi la prima prova è sempre un po' più tricky poi tendenzialmente stare sulla destra degli avversari della flotta è sempre meglio perché la rotazione continua sulla destra e poi c'è la giornata incasinata la giornata incasinata è anche quella giornata che magari non è veramente incasinata è una di queste tre ma voi non avete capito quando non avete capito è incasinata e allora usate questa tecnica ok state sempre sull'avvicinamento quando non capite le cose quando dovete pensare quando ci avete siete in in un dramma avvicinatevi intanto avvicinatevi ok sapete quelle giornate incasinatissime dove succede tutto l'aria è sporca oppure voi siete in palla totale magari il vento è pulito ma siete sporchi voi nella testa avvicinatevi perché lo capiscono anche i bambini questo ok perché vi do una regola fondamentale non parliamo più adesso di di posizionamento parliamo di geometria semplice è pura la geometria pura è semplice vi dice che fate meno strada su un bordo rispetto che su un altro sempre quasi sempre quindi meglio navigare tanto tempo in aria pulita sul bordo che vi avvicina ok e non c'è bisogno di questa gigantesca capacità di osservazione lo vedete sulle vostre derive se vi avvicinate di più mura dritta o di più mura sinistra tutte le volte vi faccio un parallele con il mondo mi è capitato una volta di fare questa serata per un'azienda è piaciuto molto il concetto ho spiegato un po' questa cosa dell'avvicinamento della barca a vela è piaciuto molto il concetto della metafora del mercato in cui ho detto cavolo tutte le volte che un navigatore non ha la prua verso un obiettivo ok ma ha la prua che si allontana l'altro obiettivo siccome sono due scelte che puoi fare perché non puoi andare contro vento ok tutte le volte che tu non hai la prua sull'obiettivo devi farlo perché stai investendo stai buttando fuori soldi non stai guadagnando metri non stai guadagnando soldi in azienda ma vuol dire che se lo fai stai andando a prenderti un'opzione ma devi essere sicuro di questa opzione poi ogni investimento ha un margine di rischio ok però se decido che mura dritta non mi avvicino come mura sinistra però mura a dritta forco cane vedo che davanti ho quattro nodi più di aria c'è più pressione in più ci sarà la rotazione a sinistra ci vado ok però ecco mettetevi in testa imparate questo approccio mentale avvicinatevi se non vi avvicinate fatelo per un motivo dovete dirvelo a voi stessi vuol viro mi allontano ragazzi ogni tanto io mi cago sotto quando faccio il tattico sulle barche dico ragazzi viro lo so che è rischioso perché tutti mi cominciano a guardare lo so che è rischioso però ragazzi viro perché ho considerato dentro di me tutti i fattori e penso che sia meglio ok perché là vanderò poi guadagnerò ancora guadagnerò a quello che ho perso più degli altri ok quindi questo che cosa vi dice vi dice che se un campo di regata è fatto così giusto ci sono le due grandi ley line con una body bolina ok e voi potete essere posizionati in vari punti di questo campo di regata a seconda del momento in cui state navigando una regola fondamentale la prima regola fondamentale che non è validissima per il campo a zone attenzione per il campo a zone molto spesso vale prendere l'angolo andate lì dove c'è la zona migliore angolo e poi davanti a tutti ok quelli dietro purtroppo devono navigare non arrivando all'angolo perché quello che ci è arrivato è partito meglio di loro loro non ci sono riusciti quindi è tantissimo la partenza e tantissimo la velocità ok se fate le regate arriva dal guarda dovete partire molto bene quindi avere già un piccolo vantaggio sulla flotta leggero e soprattutto avere velocità per andare dove nella vostra zona e cominciare sugli angoli a virare lì dove serve punto ok in tutti gli altri campi voi navigate e avete sempre una percentuale di avvicinamento su una lei e un'altra percentuale di avvicinamento sull'altra in questo caso sono 10% e 90% ok la prima regola non nel campo a zone soprattutto nel campo oscillante ok soprattutto nel campo oscillante è non arrivare troppo presto alla ley line perché perché sei primo se sei primo ti metti qua sulla ley line e gli altri ti passeranno tutti dietro e chi se ne frega però se sei primo e poi c'è un salto di vento a destra la ley line ti si allontana ok e sulle nostre barche perché ho visto ho visto dei video vostri non è tanto male perché se sei allontana e perdete qualche grado avete sì è vero siete andate un pochettino oltre le ley line ma poggiando camminate un botto perché ho visto che la barca plana molto quindi su certi tipi di barche ok tipo gli skiff a volte vale quasi la pena andare leggermente oltre le ley line perché poi poggiando aumenti tantissimo la velocità sulle barche dislocanti se tu butti via 10 metri le ley line li paghi tutti perché poggi la barca è inchiodata non c'è poggi si sbanda e basta ma non vai più veloce quindi dipende un po' dalla barca che hai però dicevo se sei primo ti puoi anche permettere di avvicinarti prima degli altri la ley line il problema è se c'è un salto grosso che quelli da sotto poi dopo ti entrano ti scodellano e tu invece rimani fregato quindi neanche da primo io a un minuto minuto e mezzo la ley line viro sempre ok quasi sempre la seconda regola fondamentale ve la scrivo in inglese che fa più fico è questa long leg first prima il bordo lungo è inutile che andate a farvi l'ultimo 10% della cosa se siete qui avete 90% io queste due percentuali me le faccio sempre in testa cavolo avrò 10% sulla ley di destra e 90% davanti quindi bordo lungo mura dritta si dice in gergo c'è un lungo mura dritta quindi il più possibile navigare mura dritta ragazzi il più possibile perché ti avvicina di più e cosa vuol dire che se viene un destro entri in boa se viene un sinistro virate non è detto perché se viene un sinistro sei ancora in avvicinamento ed è ancora a bordo lungo quello stai ancora lì altro sinistro è ancora a bordo lungo quello stai ancora lì ancora a sinistro ti avvicinano di più dall'altra parte pronti a virare ok quindi non è detto che ad ogni scarso vogliamo virare perché uno scarso può essere ancora l'avvicinamento da quella parte ok e poi c'è un'altra cosa c'è il centro del campo quando navighiamo 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 bordo lungo nel momento in cui siamo al centro del campo il mura dritta non ci avvicina più ok quindi possiamo andare sia a destra sia a sinistra senza perdere metri geometrici senza svantaggio geometrico se non quello della virata ok nel momento in cui siamo sul centro del campo quasi sempre importante nell'ultimo terzo della bolina il centro del campo cominciamo a pensare a che cosa alla lei che non abbiamo raggiunto prima e posizionarci rispetto alla flotta alla lei cosa vuol dire vuol dire che se abbiamo navigato un minuto e mezzo dalla lei siamo arrivati qui quelli che si sono posizionati in lei in realtà non ci hanno dati che erano davanti non ci hanno dato così tanto così tanto disturbo perché un minuto e mezzo sei abbastanza lontano da loro ok quindi non hai preso disturbo da quelli che cavolo hanno visto la lei ha detto faccio una virata in meno vanno in lei si posizionano ok in più abbiamo una virata e poi possiamo decidere se infilarci in un buco ok ci sono sempre dei buchi cercate di non entrare dalla lei di sinistra entrate se c'è proprio un vantaggio della madonna ok a quel punto un errore tipico che fanno quasi tutti è quello che se sei incasinato devi entrare in una lei incasinata ok è quello di virare in lei è sbagliato poggiate superate le barche quando avete superato tutte le barche il gruppo di barche che arrivano qua veloci le superate tutte virate qui e a quel punto riguadagnerete dall'altro poggiando veloci non fate l'errore di fare la virata decisa casinata in mezzo alle barche nel buco qui perché questo vale una delle lettere tipiche sulla sulla classifica oltre che magari virare male toccare la boa perché si vira male rimanere sotto sotto le sotto le vele degli altri ok altre due robe sul posizionamento ragazzi girate la boa si è appagato tanto la destra quindi le lei di bolina sono state queste ok molto probabilmente dovrete strambare subito ok perché strambando vi avvicinerete subito anche in poppa vale la regola long leg first ok le barche che non strambano subito se ne vanno da questa parte e in qualche modo voi guadagnate una grande opportunità che è quella di mettervi interni soprattutto con gli spicco questa cosa importantissima ok e soprattutto guadagnate subito dei metri questa manovra si chiama jib set la dovete chiamare e ce la dovete avere in testa già sulla lei grandestro strambiamo subito oppure early jib strambiamo quasi subito ma strambiamo attenzione perché l'early jib cioè isso e poi strambo ti può fare infilare barche qua in mezzo se c'è il destro ok se c'è il sinistro si poggia e si va importantissimo per voi che avete gli spi soprattutto con aria quando scendete molto poggiati ok è cercare di l'interno nelle tre lunghezze dalla boa molto spesso ha senso cercare di fare due strambe tattiche intelligenti per entrare posizionandoti all'interno di un gruppo di barche che sono magari davanti a te se entrate tutti insieme ingaggiati sarai quello più interno e quindi girare la boa ma queste sono credo banalità ok avete domande? io ne avrei una ma forse meglio un giudice quindi se arriverà il bolla ma pensando alla Coppa America non mi ricordo quale prova sulla 17.1 bella la barca comunque dietro non è male questa bellissima scusa Duccio pensa che mi hanno regalato per i miei 40 anni un Armagnac dell'80 e mi ricordo ancora quello che avevamo bevuto assieme la 17.1 sulla Coppa America che Luna Rossa l'ha portato fuori in una poppa l'ha portato proprio fuori abbiamo portato fuori i neozelandesi lì la giussa rotta se io arrivo di poppa un cancello di poppa l'abbiamo portato fuori se sei fuori dalle due lunghezze ok tu puoi in qualche modo interpretare la giusta rotta come è il mio modo migliore per girare la bolla prima di te infatti poi abbiamo strambato e abbiamo preso la bolla un po' orzati per le loro alliature però perfetti se invece sei all'interno delle tre lunghezze non c'è storia lo devi passare cioè lo devi lasciare gli devi lasciare spazio sì sì ok però cioè se quello se quella giusta rotta è per te un modo per passare prima la boa di lui lo puoi fare soprattutto nel match ok è più roba da match la 17 poi dipende proprio dal giudice infatti se avremo il piacere di avere il bolla con lui proprio i casi dell'isafissà a memoria che li ho interpretato faccio faccio una domanda io chi sei? e sono Lorenzo ciao buonasera Lorenzo cognome rondelli ciao ciao e qualche volta la boa non si vede e bordo lungo però si riesce a un certo punto si riesce sempre a capire che si è al centro del campo allora una buona domanda bravo perché in realtà dovevo dirlo io ma me ne sono dimenticato allora in partenza tu te ne freghi della boa giusto abbastanza perché parti rispetto alla flotta in una posizione geometricamente favorevole giusto? io faccio parte del terzo gruppo quello che sta imparando eh allora guarda tu fai va in fireball sì il mio ottimo maniere mi sopporta ecco guarda ti ricordi questa immagina di che questa sia la linea di partenza c'è un vento quadrato e non c'è nessun vantaggio c'è un vento sinistro tu parti a sinistra di questa linea di partenza e hai un vantaggio della madonna c'è un vento destro non l'ho disegnato ma avrebbe un vantaggio della madonna questa barca giusto? ok quindi ti disegno vento sinistro rosso rotte rosse cavolo in un minuto guarda quanto fa questo e guarda quanto fa questo quindi perché? perché c'è questa separazione tu immaginati la stessa cosa questa è una linea di partenza perché tu puoi mettere una linea diversa rispetto al vento oppure mettere il vento storto ma è uguale la geometria cioè io te la posso te la posso disegnare così questa cosa guarda ti metto ti metto il vento dall'alto diciamo della lavagna e questa è una linea storta oppure ti metto la mia dritta con il vento sinistro quindi quando non vedi la boa cerca di fare il gol sugli avversari no quando tu parti cerca di prenderti un vantaggio sugli avversari tu parti già con un vantaggio geometrico poi dopo guarderai anche la boa e comincerai a fare avvicinamento il più possibile e pressione pressione avvicinamento pressione avvicinamento dove c'è più pressione dove mi avvicino di più queste sono le due domande sempre importanti la terza un po' più difficile che cosa farà il vento ma dobbiamo cominciare a essere già siamo già molto siamo già super bravi tattici se siamo quelli che prevedono il futuro ok ok perfetto in pratica la politica dei piccoli passi piccoli passi assolutamente bravo hai dato la cosa la cosa giusta piccoli passi piccoli gol perché già è difficile puoi figurati se dovessimo avere in testa lo schema di tutta la regata Duccio domande? sì volevo chiederti quando quando trovi un vento oscillante oltre al vedere i massimi destri e sinistri riesci anche a vedere per caso se l'oscillazione ha una tempistica è simile nel senso vedi anche tipo vedi che da sinistra a destra ci mette sempre 5 minuti una cosa che non funziona assolutamente sì io avendo imparato ad andare in barca ad avere vista quando mi sono messo a navigare sulle barche più grosse dove c'erano i navigatori che sono gli addetti agli strumenti che oltre a darti il dato del momento ti dicono anche l'andamento perché hanno soprattutto quelli bravi registrano i dati tutte queste informazioni che io in qualche modo da solo cercavo di capire ma secondo me però ogni po' di minuti fa così cioè loro te le danno scientifiche e sono tipo a puntala una roba impressionante voi avete una regata quest'anno a puntala giusto? quest'anno no ma abbiamo regatato tanto negli anni scorsi in realtà no non proprio a puntala lì vicino comunque si nel golfo lì nello stesso golfo vabbè puntala fate conto che era stato scelto da da luna rossa come base di allenamento per questo motivo perché lì la termica il vento termico è un vento oscillante con una leggera continua rotazione adere quindi praticamente fa così va e torna poi va un po' più a destra e torna poi un po' più a destra e torna poi un po' più a destra e è abbastanza con l'orologio ma proprio molto molto chiaro però il mio consiglio Carlo è quello di guardare comunque la rotazione rendersi conto se sei nella rotazione destra se sei nella rotazione sinistra ma comunque guarda l'avvicinamento perché tu puoi essere anche nello scarso quindi nella rotazione che non ti sta dando il lift ma ti stai avvicinando che ti frega magari perché ti sei sbilanciato su un lato del del campo no? se sei in centro al campo allora c'è la rotazione però ti dico che di base quasi sempre facciamo le regole che il pomeriggio va un po' a destra però se tu sei su una rotazione opposta nel senso che è in scarso 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 finché ti avvicini va bene poi ad un certo punto dici adesso sono neutro di là boom se la rotazione continua è buono 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 e dici porco cane ecco la cosa più brutta è il massimo lift dover virare ma io prima finisco meglio è ok 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 Duccio ciao chi sei? sono Batu mi senti? ciao Batu come stai? vabbè poi parliamo ascolta Duccio ma di poppa e come fai a capire quando conviene stare strallati con lo spi strallato quando conviene andare in poppa quando c'è poco vento quando non c'è tanto vento diciamo quello Batu quello è è tanto allenamento e sensibilità e è un lavoro che ti fai tanto capendo la tua barca stando tante ore sulla tua barca cioè capire che ti conviene già con quella pressione lì scendere piuttosto che stare un po' più altino e io per esempio quando salto su una barca nuova che non ho la sensazione del meglio orzare meglio volgiare guardo gli altri cioè ti dico molto sinceramente guardo i più bravi dico più o meno quello lì è l'angolo che tengono loro con la stessa mia pressione mi diciamo mi regolo su quel VMG e dico cavolo quello è più forte della flotta sta navigando così quindi sicuramente non sta non sta facendo cose a caso e poi da quello comincio a andare più pressione scendo un po' meno pressione salgo un po' poi quello bravo lo fa prima di te e meglio di te perché è tanto perché è tanto abituato alla sua classe quello meno bravo ci deve mettere il tempo certo alla fine sempre osservazione quando non si sa la cosa migliore va bene grazie oppure sulle barche grosse grosse che hanno un navigatore hanno i numeri ti dicono già guarda con 115 di apparent wind angle con la barca tu devi stare a questa velocità e a quell'angolo che è il tuo target e il problema è lì che poi quando sei timoniere di una barca poi c'è il timoniere più veloce e il timoniere meno veloce e non si parla cioè non è che la racconti perché c'è il timoniere che alla fine è più veloce di te e il timoniere meno veloce di te lo dice il numero non lo dice io sono più bravo però il vento però non ci sono scuse grande grazie Luccio la domanda che ha la mano alzata Salvatore Salvatore no no sono sempre io la mano alzata sempre ah ok perfetto molto bene no non so come si tira giù adesso guardo dai ecco fatta io bello ragazzi se volete farmi domande sono qua eh sono Lucio sono Nico Speranza volevo chiederti a livello tattico può cambiare o cambia qualcosa a seconda non dalla direzione al vento bensì rispetto all'intensità del vento perché poi immagino che gli angoli cambiano per mantenere la voce quindi non so se alla fine cambia leggermente un po' anche la strategia da seguire altra bellissima domanda allora io dopo è scontato che se ci sono dodici nodi a sinistra e sei a destra forse è meglio andare dove sono 12 nodi ok in un campo dove più o meno c'è la stessa pressione avvicinamento tutta la vita ok su barche non plananti e dislocanti di bolina ok fino ai 5 6 nodi vai dove c'è la pressione no fino ai 4 o 5 nodi vai dove c'è la pressione ok dopo i 6 7 nodi vai soltanto a geometria perché tanto le barche più veloci raggiungono già la loro velocità target che è quella diciamo dettata dalla loro lunghezza del galleggiamento e quello è su barche come gli skiff ok c'è un range di vento dove c'è un salto anche credo sul fireball di bolina planate un pochettino col ventone ecco sopra i 15 sopra i 10 12 15 secondo esatto se riuscite a stare nella zona dove planate vi cambia la regata e camminate talmente tanto che magari non vi avvicinate però cavolo camminate tantissimo certo che se di là fanno mezzo nodo in meno ma vanno in boa e tu invece vai a casa di Cristo per prendere la pressione è chiaro che non pagano ma questo diciamo è il solito trade off se no sarebbe più più facile molto cambia di lasco molto cambia di lasco perché sia con lo spi ma soprattutto con gli skiff la pressione ti fa anche scendere di più quindi se hai una zona dove c'è più pressione con un 4000 con un 49er con credo anche col fireball con le barche che planano soprattutto se sei nel range di crossover tra il plano e non plano vai tantissimo dove c'è la pressione ok almeno che ancora una volta per andare alla pressione faccio 0 WMG rispetto alla boa ok mentre gli altri magari fanno un nodo di meno ma vanno diretti in boa ci penserei capito però se sono lì che me la sto combattendo con il mio gruppetto siamo più o meno e c'è da fare una strambetta in più perché sopravento a me c'è quella pressioncina in più che è quasi quasi plano strambo capito ok anche se mi allontano un po' però poi magari con la pressione mi ammazzo tutti dopo è lì è così spero di averti risposto grazie ti ringrazio poi coi jennaker è una cosa impressionante perché coi jennaker che non hai questa possibilità di quadrare perché in qualche caso con col fireball con poca aria andate più orzatini più strallati con tanta aria credo più poggiati no immagino poi dipende che tipo di di percorso avete perché ci avete anche dei punti dove fate dei laschi fantastici strallati ok con i jennaker noi non potendo quadrare il tangone non c'è non ce n'è di balle devi avere quell'angolo lì con il vento quindi devi allucinante perché con poca aria fai un angolo molto orzato appena prendi aria poggi 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 perché ti gira molto l'apparente davanti e comunque è ancora una volta avvicinamento cioè vai dove c'è pressione per avere più avvicinamento c'è anche il mio notaio qua ragazzi cioè incredibile il mio notaio cioè stasera un grande successo abbiamo avuto 47 adesso siamo un po' scesi qualcuno è stramazzato ma nel frattempo siamo ancora in 43 quindi veramente Duccio hai hai fatto un grande miracolo complimenti io voglio chiederti una cosa come di poppa la difesa che adotti con le barche che ti raggiungono dietro e cercano di passarti sopra a vento la bestemmia quanto oltre a gettarli degli oggetti a bordo eccetera quanto duelli e qual è il punto di equilibrio tra appunto il duello e poi invece cercare di andare verso stasera mi stiamo facendo sempre delle belle domande perché interessante questa cosa allora immaginiamo di avere la boa qui e di essere in questa posizione qua col tuo spi mezzo sgonfio e dietro arrivano con la pressione ok lasciamo perdere ok così arrivano con la pressione tu a parte le bestemmie devi capire due cose uno dove arriverà prima la pressione se qui o qui ok se non lo sai cerca di di posizionarti cioè io tipo sono così stramberei mi porterei qui perché Andrea sì secondo te mi sono portato qui ah per te per tengo l'interno e tengo sotto gli altri perché esatto a quel punto per potermi superare dovrebbero andare oltre la ley line ok solo qui che vacillo loro scendono giù con le raffiche e io non ce li ho ancora cavolo quando arriveranno loro arriverà anche il vento no giusto prima o poi avrò perso tanto vantaggio diciamo di tanta acqua però a un certo punto quando mi hanno raggiunto perché non posso più farci niente perché sono so sfigato e mi raggiungono almeno voglio essere nella posizione più intelligente certo rispetto a loro qual è la posizione più intelligente non è davanti a loro ma è interno a loro con le mura dritta quindi strambo piano piano senza vento mi porto interno loro arrivano prendo aria anch'io c'ho la mura dritta quando mi strambo e comincio a orzali e rompergli le balle per farmi spazio ok c'ho la mura dritta comincio a orzali e rompergli le balle per farmi spazio in più sull'interno e cercherò di entrare io ok ok grazie prego possiamo invertire i ruoli se io sono quello che arriva di sopra come mi difendo da quello sotto che si butta dentro in boa chi sei tu? Alberto Ferracini ciao ciao allora se tu sei uno di questi già sei c'hai culo perché stai arrivando giù evidente sì esatto ma cos'è che vuoi fare? vuoi difenderti da lui poverino? no no nel senso è evidente che in questa situazione la difesa di mettersi interno in boa ti porta comunque a pareggiare i conti e come faccio io che arrivo da dietro provvedendo che uno bravo evidentemente si porti interno in boa a fare la giusta mossa perché tanto sono sicuro che lui mi sbatterà fuori a quel punto se si mette interno in boa è evidente farà esattamente come hai detto tu quindi strambo gli vado dietro o certamente questi continueranno a fare il loro gioco per cercare comunque di posizionarsi meglio uno dell'altro e scenderanno tutti insieme quindi uno questo qui ok cercherà che magari a questo che ha ancora più vento perché gli arriva da dietro anche a lui cercherà anche lui di stargli davanti fare due strambe e mettersi interno strambe e mettersi interno ma lui poverino verrà raggiunto se è stato bravo in qualche modo riuscirà perché si è posizionato bene a mantenere la sua posizione avendo perso lo stesso 100 metri se comunque come spesso accade perché se arrivano giù col vento poi magari il problema è che arrivano giù con più vento da questa parte meno da questa quindi tutti posizioni ma non lo prendi lo prendi dopo cioè lì è sempre un po' un casino però questo se questo esagera non è che può andare a girargli più interno capito deve giocarsela con le pressioni portando bene la barca magari superandolo interno esterno scusami ok grazie prego cioè non c'è nel senso non c'è una regola magari sono io che non non ce l'ho però lo saprei bene cercherai di portare se io fossi uno di questi cercherei di portare bene la barca il più possibile quello davanti lo vedo che sta in agonia ma è l'ultimo dei miei problemi poi se lui se lui in qualche modo mi riprende aria e riesce a starmi davanti come lo era prima pace ok ma mi dite di che classi siete siete tutti siete tutti fireball un po' mischiati c'è un po' di qualche circolo amico un po' un tender amici un tender anche cavolo ho visto un video che avete sul vostro sito di come è armato un fireball bellissimo che bello cioè ah sì quella è la mia la mia barca ah sì chi sei Stefano Andrea Andrea tanto bella col punto di scotta in altezza laterale sì sì esatto ma ormai fireball hanno tutti quella manovra con quel pistone che apre e chiude la balumina e poi apre e chiude il fiocco ah quasi tutti ah ah eh sì diciamo quelli recenti insomma hai detto recenti o decenti ma vedi tu insomma un gentiluomo gode e tace e sempre Lorenzo una domanda se posso farla allora ogni tanto cerchiamo di fare dei ragionamenti in barca perché ci fa piacere imparare e qualche volta poi a un certo punto la regata va male e invece di smettere invece di continuare a fare i ragionamenti decidiamo stiamo vicini alle altre barche non tanto per superarle ma per vedere se noi abbiamo lo stesso passo o comunque per imparare da loro è qualche cosa conviene fare così oppure conviene comunque continuare nei ragionamenti per fare in modo tale che una regata passami il termine sia internamente coerente cioè ho fatto una serie di ragionamenti e questo è il risultato come ti chiami? Lorenzo ok quindi non credo che ci sia una verità ti dico la mia opinione allora per come sono fatto io se sto andando male le cose non mi riescono stare vicino agli altri mi stressa nel senso che se sei in un trend negativo ti metti vicino agli altri oltre al fatto che è più difficile passarli se sei se sei messo male ok devi essere anche molto più sul pezzo perché quando sei nel corpo a corpo devi portare la barca al 200% e quello vicino a te si concentra molto di più che quando sta navigando solo e libero per una questione mentale io tendo a navigare invece libero e felice però è una mia cioè io ho bisogno di rimettere in ordine la testa quindi cerco di trovarmi uno spazio dove posso tirar fuori la mia velocità la mia tranquillità la mia tranquillità parlare con l'equipaggio e dirgli ok la stiamo portando bene mettiamoci sui numeri ok così quindi tranquillizzarci portare bene la barca e sull'avvicinamento lontano dagli altri in più lì mi tranquillizzo e cerco di capire qual è la prossima opzione dire ok adesso cos'è che posso fare per ribaltare un po' la situazione se sono messo malissimo e vado dietro agli altri è molto difficile recuperare se sono messo malissimo ogni tanto la provo tanto cioè spaio magari piglio la pressione solo io e rientro alla grande le più belle vittorie della mia vita sono state queste dove proprio ho sparato a caso e alla fine è andata di straculo mentre se ti succede che spari a caso e sei davanti e arrivi ultimo invece lì c'è proprio è dura da mandare giù ok grazie non so se posso aggiungere una cosa tutti abbiamo attraversato un momento quando siamo entrati per lo meno nella classe dove regatiamo in cui non eravamo esperti e quindi guardavamo quello che facevano gli altri ci sembrava che facessero delle cose incredibili e personalmente anche a me è capitato di attraversare dei periodi in cui siccome non capivo seguivo però poi a un certo punto mi sono reso conto che così non imparavo niente nel senso che continuavo magari anche a fare dei risultati anche accettabili il problema è che non capivo perché l'avevo fatto cioè che cosa era successo e allora probabilmente bisogna anche accettare di vivere un momento in cui come ci diceva Duccio all'inizio del suo intervento in maniera metodica prepari un'ipotesi e provi a verificarla salvo poi cambiarla per carità però cercare di provare a mettere in piedi un ragionamento altrimenti partecipi alle regate magari fai anche una mezza classifica ma in realtà non hai capito qual è il motivo per cui ti sei trovato lì perché quelle persone hanno fatto quella virata poi probabilmente quando tu passi in quell'area dove quelli hanno preso una decisione tu ci passi qualche minuto dopo quindi probabilmente quella decisione non è più neanche corretta e soprattutto non riesci a capire alla fine non riesci a fare un bilancio o sei un aereo nel senso che vai il doppio degli altri e allora gli stai vicino prima o poi li passi oppure in realtà ho abbastanza ragione ad Andrea non so chi io sono molto un appassionato di tennis mi piace il tennis perché il tennis mi ha insegnato molto nel mondo dello sport e ha tantissime cose molto simili alle arti marziali nel tennis cioè voi vedete i numeri 1 al mondo gente fortissima che non è che non sbagliano il tennis è bello perché tu puoi sbagliare ma puoi vincere lo stesso un po' come nella vela ma puoi vincere lo stesso la partita ok puoi sbagliare anche perdere il set ok e vincere la partita lo stesso sei a zero cioè uno deve avere la capacità di accettare dei passaggi a vuoto di accettare che ci sono dei momenti in cui non stai capendo un cazzo e quando non stai capendo un cavolo ok devi ritornare alle basi per ritornare alle basi ok avvicinamento pressione aria pulita basta le cose semplici mi avvicinano o non mi avvicino ok devi cercare di restare tranquillo cosa che io faccio fatica a fare per esempio perché io sono uno che si nervosisce e va in acido in barca purtroppo però mi rendo conto che quando riesco a trovare quella serenità di mettermi lì e dire adesso ok sono dietro però a volte faccio dei recuperoni a madonna cioè a volte mi mangio magari quattro cinque barche poi altre due poi magari chiudo quinto quella prova dove non avrei mai pensato altra roba è cercare di non fare mai corpo a corpo cioè stare sempre fuori dai casini sempre ma piuttosto passa proprio anche perché un'altra caratteristica tipica ecco questo per esempio è uno degli argomenti più tipici del posizionamento quindi che fa parte del discorso di stasera allora molto spesso gli equipaggi che non hanno tanta esperienza vedono gli altri sono davanti e virano sulle vele ok quella è una roba tipica la virata sulle vele è una roba che ci sta però deve avere un senso perché molto spesso viri sulle vele e regali l'avvicinamento all'avversario per esempio bravo mi hai virato sulle vele sul viro e mi hai regalato la via libera sull'avversario regali l'avvicinamento all'avversario quindi virare quando per mandare l'altro sul non avvicinamento può avere un senso ma può avere un senso fino a un certo punto vi faccio un piccolo disegno allora che ne so mure a dritta mi avvicino un sacco mura a sinistra mi avvicino poco la boe qua ok perfetto arriva una barca arriva una barca mura a sinistra e mi vira qua già lo posso capire che dico ok mi hai virato sulle vele va bene viro e vado all'altra parte ok però qual è il problema che tu hai virato sulle vele a un avversario e l'hai fatto spaiare hai creato separazione quindi o sei un figo della madonna che sei sicuro al 200% che prenderai un sinistro perché lui va sulla tua destra e tu rimani sulla sua sinistra oppure sei un presuntuoso ci aveva ragione lui prende un po' di destro e ti ammazza dopo ok peggio ancora se viri su uno che è a mura sinistra qui e gli dici adesso te la faccio in testa e gli viri qua sulle vele ok lui vira e gli hai regalato l'avvicinamento cioè questo proprio non ha capito niente questo non ha capito niente ha virato sulle vele per farlo aggressivo e invece è stupido ok questo ci può stare ma deve essere uno che ha visto qualcosa io se fossi in questo virerei qui visto che ci passava ok mi sarei messo qua ti accompagno sull'avvicinamento ti accompagno sull'avvicinamento o meglio ancora perché poi la paura che se viene un destro orzano tutte e due le barche non passo più si crosso ti crosso però poi mi metto qua non ti sto coprendo sul tuo quadrato qua insomma di lato lui è a vento libero io c'ho a vento libero ti accompagno sull'avvicinamento e sono tra te la boa ok certo se siamo sulla ley line e c'è il primo qui che fa fatica prenderla e io mi metto qui bello sulle sue vele non gliela faccio prendere e lo ammazzo ci sta ok sei cattivo fa parte del gioco il gioco della vela se posso farti male è un conto però sei sicuro che mi stai facendo male capito o stai semplicemente rompendo le scatole qui è interessante perché come vedete poi galleggia sotto questo tema del temperamento delle persone di come poi influisce sulla capacità di mettere in pratica le cose che si sanno perlomeno a me capita questo cioè che non sempre in base allo stato d'animo che ho in quel momento per quello che sta accadendo nella regata riesco a fare delle cose che so perfettamente ma in quel momento non riesco a renderle disponibili nel mio modo di agire l'altro aspetto è questo qui quello dell'attacca brighi è frequentissimo anche sull'altro esempio di poppa gente che si comincia a coprire a ingaggiare e praticamente va a farsi una sua battaglia personale mentre il resto della flotta sfila e guadagna posizioni questo è un tema interessante so che tu Duccio sei anche un esperto di queste cose se ho capito bene dal tuo sì sì ma un po' un po' perché le vivo su di me nel senso che più sei forte più sei tranquillo ma questo in generale in quasi tutti gli sport e non sei forte nel senso sei un campione perché ecco un altro problema della vela è questo secondo me però lui non è un campione non è che è un campione nella vela si lavora e basta tu puoi essere fortissimo su una barca poi dopo devi salire su un'altra devi imparare perché se vai meno e all'inizio quelli che lavorano più di te vanno di più su quella barca non sei un tattico buono non puoi fare la tattica quindi fondamentalmente più sei più sei diciamo poco solido ecco la parola giusta su una barca e più diventi attaccabrighe più ti senti forte meno lo sei sei fuori dai maroni sai che sei veloce ti smarchi come dicono sempre gli inglesi smart fast veloce fuori dalle balle libero navigare libero regalare anche i due metri in più all'avversario però riuscire poi a avere una conduzione più libera dalla barca più invece sei lì che cerchi che vuoi voler venire fuori più ti attacchi agli altri e questo io lo faccio tantissimo nel senso che proprio devo lavorare su me stesso quando non sono al 100% tendo a essere molto più nervoso sì questo è importante ho visto anche in regate molto affollate come ci è capitato di fare gli europei mondiali ho visto equipaggi che poi si sono rivelati vincenti arrivare su una su una boa di pop super affollata e fare un giro apparentemente lunghissimo per stare liberi mentre tutto il resto delle barche erano lì a duellare per infilarsi per coprirsi per smarcarsi invece vedere queste qui che arrivano capiscono quello che sta succedendo e fanno un giro molto più lungo ma poi sicuramente guarda i casino lì vuol dire che sei sicuro che cammini dici se faccio il giro più lungo magari perdo una barca però non mi infilo nel casino che magari mi piglio la squalifica oppure mi vado a infilare in un casino che poi non so bene come ne esco fuori preferisco sapere di perdere una barca ma sapere che poi dopo sono libero e questa freddezza ce l'hai quando sei sicuro quando invece sei lì che non vuoi far passare il tuo avversario che poi ti prenderà in giro al circolo è guerra però poi ti passano gli altri spesso una volta mi invitate sul fireball guarda quando vuoi quando vuoi tu sei lì al garda c'è Steven che ce n'è uno bellissimo sì Steven aveva già detto c'è anche l'albero nuovo quindi è perfetto l'aveva già invitato lui li spezza quindi ogni tanto li cambia quindi anche l'albero nuovo bello puoi ricominciare a rimettere i tangoni togliere i tangoni e richiuderle crocette come sui 470 non so neanche se sono più capace io quando ho visto la barca piena di cimini ho detto oddio sono tutti questi cimini per far scena solo per far scena quindi un giro un giro assicurato anzi guarda Lucio io cerco brodiere quindi se vuoi venire con me ma barca la conosci perché hai visto il video magari sì ok ottimo figata Lucio ancora un'ultima cosa se torni all'ultimo caso che hai disegnato l'ultimo pezzo che che mi hai disegnato aspetta che cambio questo sì mettiamo il caso che quindi ho cross io sono quello che che andava su mora dritta c'è l'altro mora sinistra che mi che mi crossa va oltre e si vira e vira tra me e la boa non so bene se scusami allora ripeti c'è quello che ha crossato un muro a sinistra e si è messo qui io sono l'altro lui l'attacca a brighe no no senza attaccare appunto come è giusto fare attraversato si è messo tra me e la boa e beh era già davanti e si è messo in una buona posizione esatto lì mi aspetta non mi dà fastidio adesso però so già che mi accompagna fino all'highline e quando viriamo mi faccio tutta quanta l'highline sui suoi scarti ah beh se siete vicino all'highline devi in qualche modo smarcarti prima esatto quindi sai che passerai devi mandare giù un rospo e dire passerò secondo ok passerò dietro di lui ormai si è posizionato bene ha fatto quello questa manovra si chiama slam dunk ok che la parola onomatopeica ti fa capire ti chiude la porta bam ok è sempre in inglese io dico le cose in inglese ragazzi perché non per fare il figo ma perché alla fine hanno questo modo di dire le cose che ti restano in testa cioè slam dunk proprio chiudi lo superi ti metti tra lui la boi chiudi la porta e la no passing line cioè non gli dai possibilità di passare non gli dai strade per passare se ti posizioni in un'altra posizione sì allora se tu sei questo lo facciamo ridisegnamolo tu sei questo mure a dritta dai è funzionato fino adesso quell'altro mura sinistro incrocia e si posiziona qua questo è andato un po' più avanti ok quindi alla fine si posizionano qua più o meno ok anche troppo vabbè cosa può fare questo può virare immediatamente e quindi lui magari era quello porco cane che era sul che si era posizionato un minuto e mezzo dalla lei e dice ok me lo devo bruciare adesso sto minuto e mezzo viri subito se lui non ti vira subito sulle vele crossi e ti metti per primo sulla lei e ti giocherai un altro mura dritta magari hai virato meglio e magari a destra c'era un po' più pressione hai guadagnato oppure un altro se sei lontano dalle lei un'altra opzione è cosa vedo davanti prima di virare sempre cosa vedo davanti davanti vedo più pressione ma soprattutto vedo scarso allora continuo tutta la vita anzi faccio un modo veloce di volina in modo da portarmi il più possibile avanti anche se scado un pochettino ma allargo la forbice vi ricordate questa benedetta separazione quindi la barca sotto fa un modo un po' più veloce della barca sopra quindi cosa fa allarga la separazione ma fa avanzamento in virtù del nuovo scarso quindi entrerà prima nello scarso e quando due barche sono così questa è dietro giusto? perché virando questa passa avanti giusto? ma se entrano tutte e due in uno scarso questa vira passa davanti quindi se io vedo davanti a me e sono sotto vento a una flotta un gruppo di barche e vedo pressione davanti e scarso faccio camminare verso lo scarso allargo un po' di un po' di separazione perché quando tutte e due prenderanno la separazione prenderanno questo scarso io avrò una maggiore leva e quindi uscirò poi io ok? quindi avanzamento e velocità ok? l'unica cosa che devi fare attenzione è che cosa che per esempio succede sui laghi che qui c'è la costa magari e qui tu hai visto uno scarso quindi dici cavolo allora vado veloce verso lo scarso il problema è che lo scarso c'è solo attaccato a terra e qui c'hanno il destro quindi questa separazione questo fa altezza e tu scadi 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 poi esci col buono lui però continua a stare alto 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 prende lo scarso tardi e ti vila ancora davanti ok? quindi la cosa migliore quando tu devi andare a zone è partire a sinistra degli avversari e cercare di stare alto per farli saltare poi una volta che sono saltati camminare veloce tu da solo verso lo scarso con la banda che ti segue in un mondo ideale diciamo poi quello sarebbe quello che è il goal ok comunque ragazzi adesso io cioè a parole sono tutti super bravi cioè mi sentite parlare e dite wow cioè questo è uno un conto è saperle cose un conto è farle ok? è un gran casino poi quando si imbarca mettere insieme tutte queste cose ok? quindi un conto su quando avrei racconto sulla carta è un conto che mi riescono no non è che mi riescono sempre anzi un'altra roba tornate alle robe semplici avvicinamento pressione dalla parte della rotazione quando cercate di capire queste 3-4 cose per capirle dovete fare un patto col vento e capire chi è avete già portato a casa una buona struttura per imparare a fare la tattica sempre meglio io quel poco che so e che riesco a mettere in pratica quando riesco l'ho imparato con questo tipo di procedimento con questo tipo di metodo cioè non è che uscivo a caso tutti i giorni e dicevo ah oggi cavolo ho capito perché mi è successo questo sì l'ho capito ma l'ho capito prima perché avevo già deciso una cosa è importante deciderla e cercarla e allora lì ho cominciato a essere un pochettino più strutturato nel mio modo di pensare ripeto che non vuol dire che poi vinci vuol dire che hai almeno un metodo di di lavoro ecco avete delle domande? fatevi vedere un attimo tutti che vi voglio vedere che magari conosco qualcuno oh bravo ecco c'è anche un modo per vedere chi si era andato a cena in realtà stava già dormendo il presidente sta dormendo si vede benissimo guarda che belli ok abbiamo anche uno screenshot oh esatto lo screenshot bellissimo addirittura due pagine di gente sì sì che roba fortissima allora abbiamo capito che fede al caro Damiano Andrea Michele Longo Roberto Mazzagli Lassisa Daniele Di Prato e Lorenzo Bianchi sono andati a letto secondo me l'ho lasciato lì al caro era eccola sono timidi diciamo sono un po' timidi eccola lì il notaio maledetto va bene ottimo grazie spero che di non essere stato un po' troppo noioso è stato veramente molto interessante e secondo me è anche molto molto utile hai avuto una grandissima capacità di sintetizzare gli aspetti fondamentali ed era proprio il come dire il target il giusto insomma noi nelle prossime serate ovviamente affronteremo anche altri temi il prossimo il prossimo mercoledì e proprio oggi abbiamo avuto la conferma dalla FIV che sarà con noi Giorgio Bolla per una serata sul regolamento e poi a seguire tratteremo l'altro aspetto che è molto importante che è quello prima di fare la regata cioè preparare la regata quindi preparare la barca preparare se stessi e su questo ci ci intratterrà Steven Borzani che è stato due volte campione italiano Fireball una volta come timoniere una volta come prodiere con Luca Stefanini e quindi ci racconterà detto che ci prepara la lista i compiti le cose ricordarsi di fare che però se ci pensate è importantissimo perché poi quando siamo in acqua sappiamo bene che se abbiamo qualche cosa a bordo di tutte quelle cordicelle che dicevi tu che non funziona a quel punto la testa va nel pallone e altro che distanziamenti e geometrie insomma cominciamo a occuparci d'altro quindi anche quello è un tema molto molto importante per poi ottenere quella serenità d'animo che ci serve quindi in un futuro mi piacerebbe sentirti anche proprio sul tema delle differenze di temperamento perché ecco io come segretario della classe ovviamente so che nell'ambito della classe ho delle persone che hanno un temperamento molto orientato all'obiettivo molto desiderosi di vincere eccetera e altri che invece partecipano per il gusto di piacere di partecipare di essere lì però bisogna trovare il focus per ciascuno di queste diverse tipologie perché non tutti partecipano alla regata con la stessa mentalità e quindi bisogna aiutare secondo me ciascuno a trovare il suo punto di ingaggio la sua chiave motivazionale per fare una buona prestazione non so se avete domande per Duccio abbiamo ancora questa possibilità no? ok allora come sempre sappiate che poi questo intervento è stato registrato lo renderemo disponibile sul sito della classe Fireball vi anticipo che se per Duccio va bene se possiamo pubblicarlo possiamo pubblicarlo non ci sono problemi anticipo che la federazione l'avrete ricevuto anche voi di altre classi sta lavorando insieme con il CONI per cercare di definire al più presto un calendario a partire dal 15 di aprile quando scaviva il calendario CONI che è in vigore adesso però ancora stanno aspettando l'ultimo di PCM le decisioni che vengono prese per poter provare a vedere se riescono a far partire le regate noi abbiamo in calendario alla fine di aprile il 24 e 25 una nazionale a San Vincenzo siamo in contatto con il circolo abbiamo già cominciato a ragionare su come organizzarlo ma naturalmente tutto è subordinato al fatto che il CONI approvi questa regata insieme alle altre che sono in programma per le varie classi questo purtroppo non ne abbiamo garanzia quindi ancora per qualche settimana secondo me dovremmo dovremmo aspettare però ecco a me fa molto piacere che abbiamo organizzato queste serate da un'idea di Carlo Zordi siamo riusciti a mettere insieme queste opportunità di rivederci e ci riflettevo prima mentre Duccio parlava e descriveva eccetera mi sembrava di essere lì mi sembrava di essere in barca quindi già questa questa cosa trovo che sia molto molto positiva e spero che diciamo ravvivi in tutti noi la voglia di tornare presto in acqua cercando di fare del nostro meglio quindi se non ci sono domande grazie grazie mille a Duccio Colombi per la sua disponibilità e soprattutto per la capacità di spiegare mi è piaciuto molto questo modo di disegnare con la carta che è un modo sempre molto molto efficace perché permette anche al cervello di seguire con più con più facilità le illustrazioni e quindi grazie davvero complimenti oltre che per le tue capacità in dubbio di atleta anche per le tue capacità di di docente che sono non sono affatto affatto scontate insomma se posso approfittarne certo prego Giovanni Giovanni Mazzocchi Vento in Poppa Parma tutt'altra roba ho ascoltato con piacere vi ringrazio noi non ci conosciamo ma siamo colleghi di passione vi ringrazio per la serata Duccio come al solito è molto esaustivo quindi l'ho già sentito altre volte ci siamo trovati anche in regata insieme ma purtroppo con DHL mi è passato davanti e anche alla grande però siamo andati bene abbiamo una passione e con il nostro equipaggio discusiamo tante volte sulle varie tecniche non ti faccio domande perché sei stato esaustivo e man mano che andavi avanti hai hai dato le risposte che alle domande che ti avrei fatto quindi vi ringrazio a voi dell'opportunità avete allietato una serata che poteva essere carina non ho il mare davanti però la passione è tanta e vi auguro vi ringrazio vi auguro di tornare tutti presto in mare anche chi non lo fa di mestiere ma solo per passione quindi vi ringrazio e auguro a tutti una buona Pasqua ciao grazie a te grazie a te Giovanni hai ragione ho dimenticato effettivamente è Pasqua anche quest'anno e viene di domenica tra l'altro quindi è incredibile e quindi auguri a tutti buon vento ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui su Zoom se volete diffondere questa opportunità fatelo tranquillamente ci fa molto piacere incontrare anche persone che non vanno sul Fireball ma che hanno comunque con noi in comune la passione per la vela quindi diffondete questa cosa noi lo faremo attraverso i nostri soliti canali che sono quello di Facebook il nostro sito e poi il giro di email e di link che abbiamo normalmente grazie ancora Duccio e buona sperata a tutti e buon vento io se la prossima volta ci sono e anche quella con sia quella del regolamento che quella della preparazione fantastico fantastico ottimo ottimo ci contiamo allora bene grazie mille ciao 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 grazie a tutti a tutti a tutti ciao 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 grazie ancora Duccio ciao